Jackson Briggs Ferito gravemente negli scontri con gli invasori provenienti dall'altro mondo, Jax sapeva che avrebbe dovuto potenziare la parte cibernetica per salvarsi la vita. Si è quindi sottoposto a una ristrutturazione anatomica generale, sostituendo la maggior parte del suo corpo con parti meccanizzate e completamente corazzate. Ora Jax è più potente che mai, al prezzo però della sua umanità. Allora può diventare un cyborg e proteggerci, Jax.